Avviata la programmazione della fase 2 dell'emergenza pandemia, ma gli scienziati avvertono, durerà almeno 6-8 mesi. Per l'infettivologo Massimo Galli, prima vanno preparate linee di diagnostica per evitare nuovi focolai. Intanto Confindustria va in pressing la ripartenza a maggio perché se si scavalla l'estate con un blocco di questo tipo i rischi diventano pesantissimi. La ministra dell'interno Lamorgesi afferma guardia alta per il rischio di infiltrazioni mafiosi alla ripresa. L'INAIL con i tecnici intanto preparano linee guida per la ripartenza e la mappa dei lavori con alti indici di rischio. Non è il momento dunque di allentare le restrizioni, anzi bisogna raddoppiare e triplicare gli sforzi. E l'avvertimento in questo caso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che mette in guardia dai segnali positivi in alcuni paesi e avverte che sono stati superati 10.000 casi in Africa con oltre 500 decessi.